Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Sei persone, tra amministratori e funzionari pubblici, risultano indagati dalla procura di Pescara per la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. Lo scorso 18 gennaio una valanga travolse la struttura causando 29 morti, mentre i superstiti furono 11. A quanto si è appreso a Palazzo di Giustizia si tratterebbe di una prima tranche d'inchiesta. Gli inquirenti stanno notificando in queste ore agli interessati l'iscrizione sul registro degli indagati. Tra gli indagati per la tragedia dell'hotel Rigopiano risultano il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, il sindaco di Farindola, Elario Lacchetta e il direttore dell'albergo Bruno Di Tommaso. Insieme a loro sono stati iscritti sul registro degli imputati i due funzionari della provincia, Paolo Di Incecco e Mauro Di Blasio, più il dipendente del comune di Farindola, Enrico Colangeli. Se ci saranno aggiornamenti su questa notizia li daremo nel corso di questa edizione del nostro telegiornale. Adesso ci occupiamo di sanità. Il reparto di ematologia dell'ospedale di Sulmona non si tocca. Il manager dell'ASL, Rinaldo Tordera, pronto a sostituire la dottoressa in caso di prolungamento della malattia. L'allarme era partito dal Tribunale per i diritti del malato. Sentiamo tutto nel servizio di Andrea D'Aurelio. L'ASL è pronta a sostituire la dottoressa attualmente in malattia nel caso in cui la sua assenza dovesse prolungarsi ulteriormente. E' quanto afferma Onda DG, direttore generale dell'ASL, Rinaldo Tordera, su servizio di ematologia dell'ospedale di Sulmona, dopo l'allarme sollevato dal Tribunale per i diritti del malato e dagli utenti del nosocomio. La dottoressa assegnata a servizio di ematologia, prosegue Tordera, sarà in malattia fino al 5 maggio prossimo. Se per quella data non dovesse riprendere l'attività, avvieremo subito le procedure per rimpiazzarla, attingendo alle gradatorie dell'avviso pubblico, secondo le procedure di legge. Da parte nostra faremo di tutto per continuare ad assicurare servizio sul territorio, tenendo conto che un secondo medico, che opera all'interno di ematologia, si trasferirà ai primi di maggio in altra azienda della provincia, avendo vinto un concorso, conclude il manager dell'ASL. I pazienti erano già sul pire di guerra, al solo pensiero di recarsi ad Avezzano per accedere alle cure. Dall'azienda sanitaria sono arrivate, al contrario, immediate rassicurazioni sul mantenimento del reparto. Adesso la cronaca per quanto riguarda il centro Abruzzo. Ruba il telepass e minaccia gli agenti. Arresto convalidato al minorenne di Sulmona, arrestato nei giorni scorsi dalla polizia. Sentiamo tutto. Il Tribunale di minorenni dell'Aquila convalida l'arresto al ragazzo di Sulmona, sorpreso dalla polizia, rubare telepass e navigatore, in un autocarro in sosta presso via Cappuccini a Sulmona. Il giovane è lo stesso che aveva lusso le indagini su un caso di violenza in centro storico e è stato tratto in arresto, in fragranza di reato, per furto aggravato a resistenza pubblico ufficiale. Il Tribunale di minorenni ha disposto l'associazione al regime restrittivo presso un centro di accoglienza nell'Aquilano. Tutto risale le prime ore della giornata di domenica, quando un equipaggio della squadra volante del commissariato di Sulmona è intervenuto in via Cappuccini su segnalazione di un testimone. Dove aver portato a convimento l'operazione, l'arrestato si è diretto verso un'altra trovettura parcheggiata nelle vicinanze, tentando in vano di forzarla e accorgendosi di essere stato sorpreso, si è andata alla fuga. Il pronto intervento dell'equipaggio della squadra volante ha permesso di bloccare il giovane e di rinvenire la refurtiva poco prima rubata, restituita subito dopo al legittimo proprietario. Il minorenne, invirato a salire sull'autovettura di servizio per essere accompagnato presso gli uffici del commissariato, ha posto viva resistenza agli agenti che, con fatica, riuscivano nel loro intento. Contestualmente il ragazzo ha proferito gravi minacce nei confronti dei poliziotti e del testimone che aveva inoltrato la segnalazione sulla linea pronto intervento del 113. Il giovane dovrà rispondere anche del reato ritentato furto in danno degli altri veicoli e di minacce aggravate nei confronti del testimone. L'attività d'indagine proseguirà in considerazione di analoghi furti posti in essere a Sulmona. L'emendamento al bilancio sulla casa parto proposto dal consigliere comunale di SBIC Maurizio Balassone è stato bocciato dalla maggioranza gerosolimiana e quanto si legge in una nota di SBIC che contesta appunto la maggioranza di Palazzo San Francesco per la bocciatura della proposta sulla casa parto. Nonostante gli inviti alle minoranze a collaborare, Casini e i suoi proseguono sulla strada già percorsa, aggiunge la nota, in maniera testarde e fallimentare dalle amministrazioni Federico e Ranalli. Ci amareggia in particolare la bocciatura dell'emendamento che prevedeva 2.000 euro per una campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione della casa parto. La richiesta è stata respinta con la lungimirante argomentazione dato che non c'è ancora, perché pubblicizzarla? Stiamo parlando, prosegue SBIC, di un progetto sostenuto con determinazione elaborato nel 2011 dal personale di ginecologia in grado di caratterizzare e valorizzare il punto nascita sulmonese di cui è stata decretata la fine dalla Regione. una struttura da realizzare a costi zero, nella quale le donne potrebbero partorire in un ambiente familiare, circondate da parenti e amici, ma attigua al reparto di ginecologia per assicurare ogni tipo di assistenza in caso di necessità. Impegnare 2.000 euro, che non è certo una gran somma, avrebbe significato far giungere alla ASL il messaggio chiaro della volontà del Consiglio Comunale, quindi della città, di voler sostenere il progetto fortemente innovativo, in grado di rafforzare il punto nascita sul territorio. Forse i consiglieri di maggioranza neanche hanno sentito le motivazioni, hanno votato contro come bravi soldatini. Noi di SBIC siamo allarmati per questa situazione di chiusura, perché si ritorcerà ancora una volta contro la città. Abbiamo l'impressione che di sanità non si debba parlare come se fosse un territorio inviolabile, feudo, intoccabile. Nessuno deve azzardarsi ad avanzare un progetto, un'idea. Siamo allarmati, conclude SBIC, perché l'amministrazione comunale è completamente assente. Siamo allarmati perché dopo il declassamento abbiamo visto solo a condiscenza. il 2 maggio, per esempio, il responsabile di ematologia prenderà servizio presso un'altra ASL. Che fine farà il reparto? Silenzio. Conclude così la nota di SBIC. Torna l'incubo dei cani avvelenati. Due cuccioli morti in pochi giorni. Dal canile arriva il vademecum per gli utenti. Sentiamo nel servizio di Andrea Daurelli. Torna l'incubo dell'avvelenamento dei cani in città. A farne le spese finora sono stati due cuccio. Il primo morto in zona San Francesco, l'altro in via San Polo. Ma fra i quartieri a rischio compaiono anche via Montenero e Montesanto. Tanto è bastato per riaccendere riflettori sul tema con la Presidente dell'Associazione Cote Felici, Gabriella Tunno, responsabile del canile comunale di Noce Mattei, che invita a tenere al guinzaglio gli amici a quattro zampe. Invitiamo i cittadini a contattare il servizio veterinario dell'Astra Vezzano-Sulmona-L'Aquila al numero 0864-31030 per chiedere una bonifica dell'aria, avvisa Gabriella Tunno, raccomandando di prestare massima attenzione per strada. Alzano la voce intanto i sulmonessi, specie coloro che sono stati già colpiti dal fenomeno. Proprio l'anno scorso mi hanno avvelenato la mia cagnolina, ma noto che questi episodi si ripetono da almeno tre anni, sembra nello stesso arco temporale, fa notare una donna. È il caso che ci si renda conto del problema a livello istituzionale e non venga sottovalutato. Festa di San Panfilo anche nella Mensa Caritas Diocesana. La parrocchia offrirà il pranzo ai poveri. Trenta persone ogni giorno si mettono in fila per un pasto caldo nella Mensa di via Porta Romana a Sulmona. Sentiamo. La parrocchia della Basilica Cattedrale di San Panfilo offre il pranzo agli indigenti della Mensa Caritas Diocesana di Sulmona Valva. Il gesto solidale, divenuto ormai una tradizione, nell'ambito della festa del Santo Patrono, si ripeterà nella giornata di domani, in occasione della festa del Santo. L'usanza risale ai tempi del Comitato Festa che pensò di rendere partecipi anche i poveri della ricorrenza di San Panfilo, un vescovo che in quanto a carità e solidarietà ha dato l'esempio. Un rituale che è stato ripreso dal parroco emerito Don Maurizio Buzzelli e ora viene portato avanti da Don Domenico Villani. Un piccolo segno per far sentire tutti amici e fratelli. È diventata ormai una tradizione che vogliamo portare avanti e per questo che domani offriremo il pranzo agli ospiti della Mensa Caritas, annuncia il parroco Don Domenico. Ogni giorno, festività comprese, non sono poche le persone che si mettono in fila nella Mensa Caritas della Diocesi di Sulmona Valva per richiedere un pasto caldo. Su per giù sono una trentina, uomini e donne, costretti a bussare alle porte dell'edificio di Via Porta Romana, sette giorni su sette, dalle 12.30 alle 13. Si riaccendono dunque riflettori sulla povertà che dilaga quella che nessuno conosce o fa fin da che non esista. La maggior parte degli indigenti che si rivolgono alla Mensa Caritas sono italiani, una piccola percentuale e occupata dagli stranieri. Molti sono abituali, sono qualcuno passa per una toccata e fuga. Il trend nazionale si ripercuote così a cascata anche nel cavologo Peligno. I pasti che la Caritas eroga nel corso dell'anno sono all'incirca 10.000. Ai nastri di partenza a Prato la Peligna i festeggiamenti in onore della Madonna della Libera al Via il conto alla rovescia. Un fitto programma per l'edizione segnata però dal santuario chiuso. Il servizio è di Andrea Daurelli. Ai nastri di partenza la festa della Madonna della Libera a Prato la Peligna con il programma che da almeno una settimana circola su web. Un'edizione segnata dalla chiusura del santuario per i lavori di adeguamento sismico ma il comitato festa non si è perso d'animo e ha curato tutto nei minimi particolari. Il momento clou della festa religiosa resta l'arrivo della Compagnia di Gioia dei Marsi in programma venerdì 5 maggio alle ore 18.30. Il tradizionale stracino si ripeterà sul sagrato del santuario dove avverrà anche l'esposizione della Madonna alle ore 10.30 al giorno successivo. Seguirà alle 11.45 la processione per il rione di Valle Madonna. domenica 7 maggio Santa Messa Solenne alle ore 11 mentre alle 16.45 sarà la volta della processione per le vie del paese. Tutte le celebrazioni si terranno nell'ex cinema d'Andrea. Ma la festa religiosa continua anche la settimana successiva nell'ottava della ricorrenza. Nuova esposizione della Madonna sabato 13 maggio mentre domenica 14 è in programma la Santa Messa alle ore 11 alla quale farà seguito la breve processione per il tradizionale Giro di Don Ciccio. E' già entrata in vivo la festa civile con la sedicesima edizione del torneo di calcio Madonna della Libera. Il pomeriggio del primo maggio alle ore 18 occhi puntati sulla crescendo band che si esibirà in piazza Garibaldi. Venerdì 5 maggio spazio alla pizzica con l'orchestra Etno Musicantes esibizione alle ore 21. Sarà la banda città di Conversano a tenere invece il gran concerto bandistico sabato 6 maggio alle ore 21.30 in piazza Garibaldi. Il giorno successivo toccherà la banda città di Biseglie. Ma il bello deve ancora venire. Venerdì 12 maggio alle 21.30 arriveranno Demo Morselli e Marcello Cirillo con la loro orchestra spettacolo. Alle 21.30 di sabato 13 maggio sarà in concerto Silvia Mezzanotte la cantante che fino allo scorso anno militava animati a Bazzar. Chiuserebbe bellezza con la fanfara dei Carabinieri di Roma domenica 14 alle 21.30 Al via domani l'edizione numero 17 del Sentiero della Libertà in 400 parteciperanno al trekking in ricordo dei prigionieri e dei partigiani. Si partirà dal Palazzetto dello Sport. Sentiamo. Tutto pronto per l'edizione numero 17 del Sentiero della Libertà dedicato al compiando Presidente della Repubblica Carlo Azzelio Ciampi. Il trekking che attraverserà la Maiella prendere via domani a Palazzetto dello Sport di via 25 Aprile e terminerà domenica 30 Aprile in quel di Cassoli. Il 29 Aprile ci sarà la salita a Guaro di Coccia e poi l'arrivo al Sacrario della Brigata Maiella a Taranta Peligna nel pomeriggio. Saranno oltre 400 i partecipanti alla marcia internazionale provenienti da varie nazioni in particolare Stati Uniti Gran Bretagna e Australia. Per gli studenti oltre al nutrito gruppo di Salovi saranno allievi di Lanciano Casoli del riccio classico di Sulmone e di Milano gruppi da varie parti d'Italia e nella prima giornata circa 100 ragazzi delle scuole metri per Scasseroli e Velletta Barrea. Il sentiero che sarà percorso era la via di fuga di migliaia di prigionieri alleati e di giovani italiani che lottavano per la liberazione d'Italia divisa dalla linea Gustav dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 quando l'Abruzzo divenne terra di confine e angolo di speranza per i fuggiaschi che si schieravano con l'esercito alleato. La prima edizione ci fu nel 2001 quando il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azzelio Ciampi venne a Sulmona per inaugurare la prima edizione e i giovani partecipanti disse «anch'io fui uno di loro lasciai Sulmona lasciai coloro che mi avevano accolto come un fratello nelle loro case qui a Sulmona la sera del 24 marzo 1944 in quelle giornate in quei mesi di tragedie e di gloria le popolazioni di queste regioni diedero prova di straordinario eroismo e di grande spirito maritario». Nel 2003 venne creata l'associazione Sentiero della Libertà Fidontrail non solo attraverso le varie edizioni ma anche e soprattutto attraverso la pubblicazione delle autobiografie degli ex prigionieri di guerra si è mantenuta viva la memoria 8 i volumi pubblicati con l'ultimo che è un'ontologia curata da Maria Rosaria Lamorgia e Mario Setta dal titolo Terra di Libertà Il figlio di un noto avvocato del foro di Chieti si è tolto la vita utilizzando la pistola del genitore la tragedia si è consumata alle prime ore di questa mattina nell'abitazione di famiglia a Chietiscalo in via dei Vestini dei pressi del campus universitario Mariano Supino 27 anni figlio dell'avvocato penalista Vittorio ex assessore al comune di Chieti nella giunta guidata dal sindaco Nicola Cucullo studente di giurisprudenza all'università di Teramo avrebbe dovuto laurearsi a breve sul posto il capo della squadra mobile di Chieti Francesco Costantini quasi 400 studenti di sesso maschile delle medie dell'Altosangro e della Valle Peligna verranno sottoposti ad uno screening gratuito per prevenire infertilità e altre malattie dell'apparato sessuale i controlli riservati a ragazzi fra 14 e 19 anni inizieranno il 3 maggio prossimo negli istituti superiori di Castellisangro e si estenderanno all'inizio del prossimo anno scolastico nelle scuole dello stesso grado di Sulmona visite gratuite uroandrologiche con duplice scopo verificare il benessere sessuale dei giovani e intercettare sul nascere patologie della sfera genitale un monitoraggio importante compiuto in un'età cruciale che va a colmare un vuoto lasciato dalle visite che venivano effettuate quando era in vigore la leva militare la prevenzione dichiara il manager dell'ASL Rinaldo Tordiera è uno strumento indispensabile per salvaguardare la salute di tutta la comunità e assume particolare importanza quando riguarda il benessere dei giovani e lasciamo dunque questa notizia che riguarda la sanità si rinnova lunedì primo maggio il rito dei serpari di Cocullo tradizionale e suggestivo appuntamento previsto in occasione della festa di San Domenico per facilitare la mobilitazione dei visitatori Trenitalia di concerto con la regione Abruzzo committente finanziatrice dei servizi regionali potenzierà l'offerta con sei treni straordinari sulla linea Vezzano Sulmona e con la fermata straordinaria a Cocullo alle 8.50 per un altro convoglio regionale il regionale 3227 in partenza da Pescara alle 7.30 l'offerta straordinaria si aggiunge ai sei treni ordinari che fermano a Cocullo nei giorni festivi e adesso c'è una comunicazione della SACA che riguarda la sospensione dell'erogazione idrica per lavori urgenti di manutenzione straordinaria nel comune di Rocca Casale dovendo procedere all'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica la SACA rende noto che mercoledì 3 maggio dalle 9 alle 13 verrà sospesa l'erogazione idrica nell'intero territorio comunale di Rocca Casale al ritorno dell'erogazione precisa la SACA potrebbe riscontrarsi la presenza di torbidità dovuta ai normali depositi presenti nelle tubazioni che scomparirà lasciando scorrere l'acqua per breve tempo la SACA precisa inoltre che saranno adottate tutte le misure precauzionali atte a ridurre al minimo i possibili disservizi e lasciamo dunque questa comunicazione della SACA ci sono altri aggiornamenti un incendio ha interessato lo stabilimento Sevel Sevel di Atessa e dunque alla Sevel si riprenderà l'attività tra non molto attività che si è interrotta appunto a causa di un incendio che ha interessato la fabbrica di Atessa e dunque fanno sapere dall'azienda che le attività nello stabilimento riprenderanno alle 14 e 15 adesso c'è un aggiornamento di sport due secondi posti per il pilota di Colle Corvino Federico D'Annunzio nel National Trophy 1000 prima tappa del campionato italiano disputata ad Imola dopo aver conquistato la qualifica in un secondo posto su 42 partecipanti D'Annunzio ha conquistato il secondo posto nella gara 1 guadagnando una posizione all'ultima curva su un collega che disputa come lui il campionato mondiale lasciamo anche questo aggiornamento di sport adesso prima di concludere possiamo vedere come al solito i film in programmazione alla multisala Ijoland di Corfinio Famiglia all'improvviso con proiezioni alle 18 e 20 e alle 21 e 10 Guardiani della Galassia con unica proiezione alle 21 e 10 La La Land con proiezioni alle 18 e 21 e tutto dunque per questa edizione del giorno del nostro telegiornale grazie della cortesa attenzione prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con il meteo buona giornata a tutti voi sulla nostra regione condizioni di cielo da nuvoloso accoperto con raffiche di vento soprattutto sulle zone montuose e nelle principali valli che si affacciano sul versante orientale ma la tendenza è verso un ulteriore aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale con rovesci su marsiche aquilano localmente a carattere temporalesco i fenomeni saranno più probabili sul settore occidentale tuttavia non si escludono rovesci a carattere sparso anche sul versante orientale specie sulle zone pedemontane temperature in ulteriore aumento specie sul settore orientale ma da domani è attesa una generale diminuzione a partire dal settore occidentale venti moderati dai quadranti sud-occidentali con forti raffiche sulle zone montuose mare generalmente mosso es che come in a partire di veneno esti fordata avvi bifurda avvi bifurda un'argo possesso con forti raffiche